Ciao Annalisa, ci sei fatta? Sì, finalmente. Come è andata? Andata bene, un po' in ansia, però tutto bene. All'inizio, poi dopo è passata anche l'ansia. Sì. Tu hai fatto anche il percorso con il nostro esperto dell'ansia e è venuta bene. Ti sei trovata bene? Sì, sì, bene bene. Sono state utili quegli insegnamenti, quelle tecniche? Sì, molto. E invece con gli istruttori sei trovata bene? Sì, sì, molto bene. Ok, consiglieresti la nostra scuola agli altri? Sì. Brava, ok. Brava, complimenti. Grazie. Allora ci vediamo in giro. Ciao. Ciao.